Ciao ragazzi, io sono Dani Sorriso e oggi già in primavera facciamo l'annunzamento dei pilates. Iniziamo con la respirazione che è il più importante, va bene? Rilassa le spalle, rilassa le ginocchia, le gambe in direzione delle spalle e con l'una dritta e spingi in giù. Ok, e mani laterali, inspira, apre le costole, inspira, espira della bocca e addomi in contrazione, chiude le costole e rilassa le spalle. Pronti? Inspira, espira, inspira, apre le costole, espira, addomi in contrazione, inspira, espira, ancora uno, inspira. Respira, respira, adesso con le brate, inspira, su, respira, dì, inspira, respira, respira. Ultimo, inspira, respira, respira, molto bene, mantieni il braccio, su, prendi i gomiti, inspira, espira laterali, inspira, respira. Inspira, respira, mantieni un po', e ritorna, cambia il braccio, cambia il punto, inspira, respira, laterali, allunga. Molto bene, torna, piano, 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 braccia indietro, mani insieme, apre i pettorali, spara in giù, rilassa i ginocchi, testa, rotazione, piano, rotazione, riscalda bene, colla, cambia lato. Molto bene, molto bene, e febbre, rilassa, braccia, scioglie, bene. Bene, allora, gambe nella direzione delle spalle, inspira, respira, piano, piano, verso giù, testa in linea con braccia, vertebra per vetra, coluna in giù, lascia cadere braccia, spalle, e rilassa, il massimo che si può. O fermo così, o più, o più, o meno in palpimento. Fermo così, è meglio scadare i gambe e i ginocchi, pieghe, inspira, espira, allunga, lascia cadere testa, inspira, espira, non incontrazione. Facciamo ultimo, inspira, espira, piano, piano, ritorna su, testa por ultimo, coluna in giù, piano, piano, inspira, e rilassa. Bene, allora, o gamba destra, o gamba sinistra, indietro, braccia, avanti, addome, contrazione, inspira, respira, piano, piano, pavimento, fermo, allunga le gambe, avanti, piedi flessi. Molto bene, ragazzi, adesso, non dimenticare di lasciare sempre una buona postura, spalle, giro, rilassato, scappola insieme, apre il pettorale, sempre spinge la coluna in su. Molto bene, iniziamo, piedi flessi, coluna in C, braccia in fronte, spalle di passato, piano, piano, addome, contrazione, e andiamo verso il pavimento, piano, 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 e rilassa. Appoggio, piedi completo, andiamo, iniziamo con addome, quindi facciamo cento repeticioni, non forzare mai il colo, forza solo l'addome, braccio allungato, dritto, forte, non lasciare morto, braccia forte. Bene, facciamo cento repeticioni, facciamo dieci, 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 e dieci, e ritorniamo. Se è molto difficile, si può fare anche tutto con appoggio di piedi, così. Bene, lascia, preparazione, inspira, e espira, su. Bene, lascia, preparazione, iniziamo. E rilassa Braccia, rilassa Colo E gira testa Sinistra Restra, rilassa Allunga bene Molto bene Allora, su testa Allunga cervicale Che è il Allunga braccia E inspira Expira, dormo in contrazione Inspira Expira Ultimo, expira Expira Ferma, su Prende solo, gamba La outra gamba Tesa, forte Expira, expira Expira Respira Inspira Respira Um pouco forte Canta 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 E ferma Relaxa Pode Laça colo Ritorna Su Su testa In linea In linea Non forza colo Forza addome Allunga braccia Allunga gambe E braccia in rotazione Inspira Espira Apri Inspira Espira Espira Testa Testa Lato Contrario Pieno Ritorna Su Cambia Lato Inspira Respira Respira Molto bene Lascia Allungare Coluna Lombare E ritorna Su Appoggia Piede Completo Tallone Braccia Dietro Inspira Respira Spinge In bacino In giro Addome Glute Contrazione Attenzione Qui Con la coluna Quindi Noi facciamo Questo Bene Dritto In linea Contro Lato Iniziamo Inspira Respira Addome Glute Contrazione Inspira Inspira Respira Facciamo Ultimo Inspira Respira Mantieni Il bacino Su Su Gamba Destra Piede Punta Allora Gamba Vicino Al pavimento Flesso Piede Flesso E sui Intu Inspira Respira Inspira Respira Inspira Respira Ultimo Inspira Respira Piano Piano Ferma In linea Condilocchia Ebrate Sua Dome Contrazione Apodio Apodio Vendix Capo E Ritorna Piano Relax Inspira Respira Bacino Su Inspira Respira Adome Contrazione Glute Contrazione Ultimo Inspira Respira Ferma Sua Apodio Abrate Gamba Contrária Sua Piede Impunta Pitino Movimento Inflesso Inspira Expira Punta Inspira Expira Inspira Expira Ultimo Inspira Respira Ferma Sua Piano 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 In linea Con Genocchia E Sub Braccia Adome Contrazione Relaxa Teste In linea Con Coluna Tre Uno Torna Piano Relaxa Braccia Inspira Respira Sua Inspira Respira 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 Ultimo Inspira Respira Mantieni Sussi Tutti Apri un po' Le gambe Non bisogna fare questo Un po' Meno Apri Braccia Spalla In giù Inspira Respira Rotazione Braccia Contrari Le gambe E vieni giù In direzione Pavimento E cambia Inspira Respira Due Inspira Respira Guarda Spalla E giù Rilassa Inspira Respira 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 Inspira Respira 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 Ultimo Inspira Respira 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 E ritorna In centro Appoggia Piano Piano Ad ogni Contrazione E su Gambe Apre Pettorale Scapoli Insieme Facciamo un po' più difficile Allunga tutte le due gambe Piano 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 Ad ogni Contrazione Apre Peto Guarda Su Guarda Avanti Allora O come appoggio O braccia Avanti Inspira Respira Su Ad ogni Forte Inspira Respira 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 Ultimo Inspira Respira 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 E ritorna Piano Abbraccia Gambe E rilassa Muito bem Ottimo Apoggia Una gamba L'altra Gamba Impunta Braccia Indietro Inspira Respira Piano Piano Su Ad ogni Contrazione Ad ogni Ad ogni Ad ogni E su Gamba Bene E indietro Inspira Respira Su Bene E ritorna Respira Gamba Não apoggia Não apoggia Impavimento Respira Ultimo Respira 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 Torna Piano Cambia Gamba Apoggia Alunga Piede Impunta Não apoggia Pio Impavimento Braccia Inietro Respira Respira Su Inspira Respira Respira Atenzione Com o scapole Inspira Respira 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 Piano 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 Apoggia Le due Adesso Gamba Insieme Braccia Laterale Addomi Forti Inspira Respira Piano Piano Indietro Bene Attenzione Addomi Forti O Ferma Così O Più Vicino Allo Pavimento Piedi Flessi Apre Le gambe Ritorna Su Controllato Chiude E piano 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 Pavimento Siamo Preparazione Inspira 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 Azione Adomi Fermo Vicino Pavimento Piedi Flessi Apre Le gambe Piano Torna Piano Piano Pavimento Piano Flessi Piano Wow Su Adesso Adesso Lo stesso Lato Destro Destro Sinistro Sinistro Braccio Destro Gamba Destra Pavimento Allunga Inspira Espira Adomi Forti Cambia Lato Inspira Lascia Allungare Espira Contrazione Inspira 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 Ultima Lunga Inspira 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 Allunga le due E Appoggia Una gamba In pavimento Piedi Flesso Resta Gamba Su Facciamo Una bella Rotazione E Allena Articolazioni Di bacino Giro Tre Giro Due Giro Uno Ferma Su Cambia La direzione E Rotazione Tre Rotazione Due Rotazione Uno E Cambia Giro Ferma Su Piedi Punta Articolazione Di bacino E Rotazione Inspira 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 Forti Ultimo Inspira Espira Ferma Su Cambia La direzione Inspira 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 Ancora Uno Inspira Inspira Piano Piano Tutte le due gambe Su Inspira Inspira Bene Gamba Insieme Rotazione Articolazioni Di bacino Contro Lato Tre E Due Ultimo Uno Ferma Su Cambia Direzione Più Tre Addomi Forti E Due Ancora Uno Ultimo E Fermo Rilassa Braccia Su Testa Allunga Cervicale E Rilassa Piano Piano Allunga Solo una Gamba Pieghi Rotazione Testa Lato Contrario Lacha Lunga Lato 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 Inspira Respira E Ritorna Piano Facciamo un giro Addomi Forte Molto Bene Allora Appoggia Mano In linea Con Pertorale Piedi Flessi Inspira Ispira Ferma Su Addomi Forte Scalpoli Insieme Attenzione Non lasciare Così Morto Ne Troppo Su Corpo In linea E Ritorniamo Molto Piano Ritorna Piano 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 E Rilassa Inspira Ispira Su Inspira Respira Respira Pavimento Piano Inspira Respira Su Ritorna Inspira Respira Pavimento Muito bene Rilassa Su Allora Appoggia Bene Ginocchio Braccia In linea Con Spada Attenzione Per non Forzare Bene Forza Sono Quadricipiti E glutei Mano Forte Indietro La testa Addome In contrazione Glute In contrazione Piede in punta Gamba Forte Inspira E Ispira Gamba Su Bene E Su Tre Due Ultimo Ferma Su Piedi Flesso Gamba Avanti Indietro E Avanti Indietro Cinque Forte Quattro Controllato Tre Due Ultimo Indietro Ferma Piedi in punta Allunga Braccia Inspira Espira Adome In contrazione Allunga Inspira Espira Contrazione Facciamo Ultimo Inspira Espira Allunga Allora Appoggio Piedi Tutte le due gambe Inspira Mano Su Espira Allunga Bene Espira Espira Adome In contrazione Allunga Facciamo Ultimo Inspira Espira Allunga Piedi Piano Braccio In linea E Ritorna Cambia Lotto Facciamo Tutto Con L'altra Gamba Appoggio Ginocchio Ok Piedi In punta Mano Forte Indietro Alla testa Adome Contrazione Inspira Espira Su Gamba E Tre Adome Forte Due Uno Uno Ferma Piedi Flesso Adome Indietro Se Indietro Cinque Quattro Adome Facciamo Ultimo Fermo Piedi Punta Allungo Braccio Inspira Espira Obliquo Inspira Espira Ultimo Inspira Espira Inspira Ritorna Piano Piedi Tutte Le due Gambe Mano Su Inspira Espira Allunga Le gamba Allunga Braccio E Ritorna Inspira Espira Su Braccio Braccio Inline Ferma Tre Due Uno E Ritorna Piano Relaxa Braccio Braccio Drito Forte Gamba Forte Piedi Flex Non Achar Cos Morto Forte Tensione Concentrazione Braccio Destro Gamba Sinistra Indirezione Al Pavimento Allunga Inspira Expira Vavora Na Esquerda Cambia Expira Expira Sente Adome Contracione Inspira Expira Sente Todo O Movimento Inspira Expira Cambia Expira Expira Testa Em Inspira Expira Fermo Assù Allora Lo stesso Lato Braccio 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 Destro Gamba Destra Lunga Inspira Expira Cambia Lato Inspira Expira Cambia Inspira Expira Ultimo Inspira Respira 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 Rilassa Braccio Su Allunga Colo Respira Torna Piano Apri Grande Insieme Laterale Testa Lato Contrario Lascia Lunga Cambia Lato Inspira Respira 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 E Ritorna Piano Addome In Compressione Inspira Espira Seduti Facciamo Un giro Appoggio Addome Forte Scapoli Insieme Allunga Testa In linea Con braccia Lascia Cadere Testa Scapoli Insieme Una Gamba Gamba Indietro Talone Pavimento O Vitina Pavimento Allunga Gamba Su Inspira Expira Gamba Avante Piede Punta Allunga Inspira Expira Expira Ancora Uno Expira Expira Ferma Drito In linea Agora Gamba Pavimento E su 3 2 Uno E drito Laça Lunga Cambia Gamba Retorno Assume Inspira Expira Cambia Gamba Lunga Talone Pavimento O Vigino Pavimento Testa In linea Com braccia Inspira Expira Avante Força Levantou Inspira Respira Respira 2 Ultimo Respira Respira In linea Lunga Gamba Piano Piano Gamba Pavimento E su 3 2 Uno Ferma Drito E Laça Lunga Piano 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 Allunga Allunga Stapa Insieme Apre Pettorale Gamba Destra Gamba Sivistra Ferma Due Respirazioni Uno Due Un E ritorno Braccia Indietro Testa Laterale Su Gamba Piede Fresi Inspira Inspira Su Allunga Cambia Lato Inspira Expira 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 Canha Inspira Expira 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 Ancora Uno Inspira Expira 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 Ele Piano 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 Su Apri Il petto E Ritorno Inspira Expira Expira Su Ancora Uno Respira 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 Torna Piano 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 Relaxa Allunga Indietro Braccia Relaça Laterale Al corpo Apoya Testa Respira 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 Ultimo Inspira Inspira Espira Piano Su Appoggio In linea Inspira Espira Piano piano Contro lato Adoni Forti Vicino al pavimento E Rilassi Inspira Espira Su Inspira Espira 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 Allunga Braccio Contrario alle grandi Piccoli Forti Testa In linea Coluna Due Uno Ferma Su E Facciamo Avanti Dietro Avanti Dietro Forte E Rilassi Allunga Molto Bene Fantastico E Ritorna Braccio Contrario Le gambe Contrazione Braccio Destro Gamba Sinistra Lunga Piedi in punta Testa In linea Quindi non forzare troppo colo Guarda Tappetino Ispira Ispira Dove Contrazione Chiude Ispira 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 Ferma Lunga Apri Laterale Ispira 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 Fermo Solo braccio Pieghe Allunga Ispira 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 Irlassa Gambe Amato Braccio Contrario Le gambe Non forzare il collo allunga piedi in punta inspira espira, chiude addomi in contrazione inspira respira inspira respira ferma, avanti apri laterali grande abbraccio e chiude inspira respira facciamo un ultimo apri, inspira espira, ferma da una su solo braccio, pieghe allunga contrazione, due contrazione, uno e torna bravo, rilascia torna a quadrupedia e rilascia con l'una su, inspira espige forte su, espira contrazione, scapula insieme messo testa espira 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 e rilascia andiamo a allungare braccio insieme laterali un braccio sopra l'altro e allunga coluna piano cammina cambia lato coluna lato torniamo in centro scivola una gamba indietro indietro gamba avanti così gamba avanti piedi flesso andiamo a allungare laterale coscia e glute fermo scivola gamba avanti piedi flesso e schiena dritta colpo in linea quindi non lascia cadere laterale forte espira respira cammina avanti il massimo che riesce lo importante è sentire allungare allungare lascia sempre tirare glutei nervo sciatico piano braccia cammina indietro allunga indietro e cambia gamba avanti piedi flesso non lascia cadere laterale manteniamo dritto in linea braccia avanti il massimo che riesce o fermo così un po' di più ancora più bene lascia allungare addoni mantiene forte attivo ritorniamo piano braccia cammina indietro fermo allunga le due gambe e appoggio allora una gamba avanti bene spinge bacino avanti ginocchio non supera i piedi quindi non facciamo questo più avanti allunga flessore di coxia E torna piano, cambia lato, gamba avanti, ispira, ispira, lunga, flessore di coscia, ascia allungare, rilassa la braccia, ispira, ispira, su. E torna piano, 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 allora facciamo allungare interno a coscia, appoggio ginocchia, piedi flessi, braccia avanti, apre le gambe il massimo che riesce, senti, devi sentire allungare interno a coscia, lascia allungare. Braccia un po' più avanti, ancora un po', e ritorna, braccia, cammina indietro, chiude e rilassa. Andiamo a andare, quadricipiti e capito. Allora, gamba avanti, opi, apre le braccia, indietro il massimo che riesce, lascia allungare. Si può fare, appoggia, anche gomiti. Si può fare, allunga, dipinto, appoggia, rilassa, lascia allungare, quadricipiti, allunga articolazione di caviglie e ginocchia. Un lungo abbraccio indietro. E ritorna piano, appoggia i gomiti, addomini, contrazione e rilassa. Su, bacini, talone in pavimento, o vicino al pavimento, testa in linea con braccia. Lascia allungare. E ritorna piano, guarda, piedi, flessi, allunga dita, allunga, allunga, pieghe, 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 e rilassa. Seguinte, o sole, o così, o gamba, come trova più, come tutto. Piano, braccia indietro, braccia su, testa laterale, allunga bene il collo, trapeggio. Allora, guarda il tappettino, quindi facciamo così un piccolo giro, cambia nervo. E ritorna su, cambia lato, respira, respira. E guarda il movimento, respira, respira. Corna piano, rilassa, rotazione, piano, piano, piano. Cambia lato, allunga coluna, appoggia i piedi, braccia avanti, inspira, espira, braccia avanti. Lascia allungare, inspira, respira, 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 respira. Allunga bene, imponta lonti, piano piano, allunga, tappettino, respira, respira, allunga coluna in C. e ferma. Bene, torna piano, molto bene, fermo, allunga, braccia su, opzione, piano avanti, piedi in flex, lascia allungare. Bene, e lascia, inspira, respira, respira. Inspira, respira. Ancora uno, inspira, respira, respira, e fermo. Grazie ragazzi, è stata una lezione molto piacevole. Attenzione, restiamo a casa, così ti vediamo molto molto più presto in palestra, va bene? Quindi, ti vediamo in prossimo video. Baccio. 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 Baccio.